Stasera accendiamo finalmente il nostro buriel, il fallò della Befana tradizionale, lo accendiamo con un auspicio naturalmente di un buon anno per tutti, un anno migliore. Questa sera chiudiamo anche tutte le attività del Natale qui a Corte Mincio, arrivata sul Mincio, attività che ci hanno accompagnato nel mese di dicembre, in questa prima parte di gennaio 2013 e naturalmente come vedete alle mie spalle abbiamo riproposto il Presepe sul fiume, è un nostro omaggio simbolico all'attività che proponiamo ormai da circa 20 anni e che viene accompagnato da mostre e da altre attività, specialmente giorni festivi qui a Corte Mincio, questa realtà ambientale e turistica che il Comune di Rodigo e il nostro volontariato sta completando, sta proponendo alla comunità mantovana. Il lavoro per questi allestimenti e anche per lo stesso burial di questa sera è veramente notevole, sono i nostri volontari che operano, che lavorano per questo mese e a cui va in ringraziamento la nostra comunità rivaltese. Sempre parlando del buriel abbiamo molte simbologie attorno a questa iniziativa, a questa serata. Intanto il buriel viene acceso dal fuoco che ci viene portato dagli amici del Canoa Club, quindi sul fiume scenderanno le nostre canoe col fuoco che accenderà il buriel. La stessa simbologia, la notte di Natale, è stata proposta per portare il bambino nel presepe. Il bambino è stato portato proprio dai nostri canoeisti sul fiume con questa iniziativa un po' stravagante, perché navigare col freddo e il gelo sul nostro mincio non è sempre facile. Grazie a tutti.